Soccorso d'emergenza in India a Barola per i volontari dell'International Fund for Animal Welfare, organizzazione che da anni si occupa della salvaguardia e della protezione degli animali. In questo video gli uomini dell'IFAV entrano in allarme per la presenza in un canale di un elefante in panne. L'elefante era infatti caduto in un canale per l'irrigazione e da qualche ora affannava nel disperato tentativo di uscirne. I volontari hanno prima tranquillizzato l'animale, poi hanno provato in tutti i modi di farlo uscire e ci sono riusciti alla grande. Grazie a tutti. Grazie.